La cabala mistica di Dion Fortune Gli dèi sull'albero Tutti gli studiosi di religioni comparate e del loro parente povero, il folclore, concordano che l'uomo primitivo, osservando e cominciando ad analizzare i fenomeni naturali che lo circondavano, li attribuiva all'azione di esseri a lui affini nella natura e nel tipo, ma lo trascendevano in potere. Dato che non poteva vederli, egli non innaturalmente li chiamava invisibili. E dato che non poteva vedere la propria mente durante la sua vita o l'anima dei suoi amici dopo la morte, egli ne concludeva che gli esseri producenti fenomeni naturali avevano la stessa natura delle invisibili, ma attive, menti e anime. Ora tutto ciò suona assai rozzo, così come viene detto dagli antropologi, ma questo è soltanto perché quando essi traducono i dèi selvagge, scelgono parole che hanno rozze associazioni. Per esempio, la traduzione standard di una delle principali scritture della Cina chiama il venerando filosofo Lao Tse il vecchio ragazzo. Questo suona comico ad orecchie europee, eppure non è molto lontano dalle parole di un'altra scrittura, che è stata abbastanza fortunata da ricevere la traduzione da parte di quelli che la riveriscono, e che è, a meno che non diventi come un fanciullo. Io non sono un sinologo, ma sono dell'opinione che la traduzione con bambino eterno sarebbe stata ugualmente accurata e di miglior gusto. Esiste un detto nei misteri che afferma, In fin dei conti, l'uomo primitivo era così lontano dal segno, allorché attribuiva la causa dei fenomeni naturali ad attività della stessa natura dei processi del pensiero della mente umana, ma su un arco superiore. Non è questo il punto verso il quale sia la fisica che la metafora stanno gradualmente convergendo? Supponendo che volessimo rifugiare l'affermazione del filosofo selvaggio e dicessimo «la natura essenziale dell'uomo è di tipo simile a quella del suo creatore», ciò sarebbe preso come blasfemo o ridicolo? Possiamo personalizzare le forze naturali nei termini di umana consapevolezza o possiamo astrarre l'umana consapevolezza in termini di forze naturali? Entrambi sono procedimenti legittimi nella metafisica occulta ed il processo fornisce indizi interessantissimi, nonché alcune assai importanti applicazioni pratiche. Non dobbiamo fare però l'errore dell'ignorante e dire che A è B quando intendiamo che A ha la stessa natura di B, ma ugualmente ci possiamo legittimamente valere dell'assioma ermetico come sopra così sotto, perché se A e B hanno la stessa natura, si può affermare che le leggi che governano A riguardano B. Ciò che è vero della goccia è vero dell'oceano. Di conseguenza, noi sappiamo appena qualcosa circa la natura di A. Possiamo concludere che, concessa la differenza di scala, essa si applicherà a B. Questo è il metodo dell'analogia usato nella scienza induttiva degli antichi e, sempre che sia ricontrollato mediante l'osservazione e l'esperimento, esso può dare alcuni risultati assai fruttuosi ed accorciare di parecchie leghe lo stancante girovagare nel buio. La personificazione e la deificazione delle forze naturali è stato il primo rozzo e scaltro tentativo dell'uomo di sviluppare una teoria monistica dell'universo e di salvarsi dalla distruttiva e dannosa influenza di un dualismo non risolto. Mentre epoca dopo epoca estendeva la propria conoscenza ed elaborava i suoi processi intellettuali, egli scorgeva sempre maggior significato nelle prime semplici classificazioni. Nonostante ciò, egli non scartò le sue classificazioni originali perché queste erano fondamentalmente solide e rappresentavano fatti reali. Egli si limitò ad elaborarle, ad estenderle e, alla fine, quando cadde in disgrazia, le caricò di superstizione. Non dovremmo quindi considerare i panteon pagani come altrettante avverrazioni della mente umana, né dovremmo comprenderli dal punto di vista dell'uomo incolto e del non iniziato. Dovremmo cercare di scoprire ciò che essi significano agli intelligentissimi e colti supremi sacerdoti dei culti dell'epoca del loro splendore. Confrontate David Nell e C. Brock sull'argomento dei riti pagani con i rapporti del missionario medico. C. Brock ci mostra il significato spirituale della stregoneria e David Nell ci mostra l'aspetto metafisico della magia tibetana. Queste cose appaiono in un modo all'osservatore che li avvicina spiritualmente, che si conquista la fiducia degli esponenti di quei sistemi e riesce ad essere ricevuto come un amico del loro sancta sanctorum e che va là per imparare invece che per osservare e ridicolizzare e, in un altro modo, al bigotto mangiatore di bue che entra nel luogo santo con le sue scarpe sporche e viene preso a sassate dai fideli indignati. Nel giudicare queste cose, esaminiamo la forma che presenterebbe il cristianesimo se fosse accostato nella stessa maniera. Osservatori che li sono lontani spiritualmente probabilmente arriverebbero alla conclusione che noi adoriamo una pecora e lo Spirito Santo si presterebbe ad interpretazioni spettacolari. Diamo credito agli altri quando siamo le metafore se non vogliamo aspettarci di essere presi anche noi alla lettera. La forma esteriore delle antiche fedi pagane non è più rosa del cristianesimo in arretrati paesi latini in cui Gesù è rappresentato in cilindro e frac e la Vergine Maria in pantaloni bordati di merletti. La forma esteriore delle antiche fedi può reggere assai favorevolmente il confronto con i nostri metafisici moderni. Dopotutto esse hanno prodotto Platone e Plutino. La mente umana non cambia e ciò che è vero per noi è probabilmente vero per i pagani. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo è un'altra versione del Toro di Mitra che fa la stessa cosa. L'unica differenza è che l'antico iniziato era letteralmente lavato nel sangue mentre quello moderno prende ciò metaforicamente. Se ci accostiamo a quelli che preferiamo chiamare pagani sia antichi che moderni con spirito di rieverenza e simpatia sapendo che Allah, Brahma e Amen Ra sono semplicemente altri nomi di quello che noi adoriamo come Dio impareremo moltissimo di quanto è stato dimenticato in Europa allorché l'agnosi è stata spazzata via e la sua letteratura è stata distrutta. Ci accorgeremo ad ogni modo che le fedi pagane presentano il loro insegnamento in una forma che non è prontamente assimilabile alla mente europea e che se vogliamo arrivare al suo significato dobbiamo riaffermarlo nei nostri termini. Dobbiamo correlare il concetto metafisico col simbolo pagano allora saremo capaci di applicare al primo la vasta massa di esperienza mistica che generazioni di psicologi contemplativi e sperimentali hanno organizzato su questa. E allorché parliamo di psicologi sperimentali non dobbiamo commettere l'errore di pensare che essi siano esclusivamente un prodotto moderno in quanto i sacerdoti degli antichi misteri e con il loro sonno templare e le deliberatamente indotte visioni ipnagogiche non era niente di più né di meno che psicologi sperimentali anche se la loro arte è andata perduta come parecchie delle altre arti antiche ed è laboriosamente recuperata un po' alla volta nei circoli più avanzati di pensiero scientifico. Il metodo usato dall'iniziato moderno per interpretare il linguaggio parlato dagli antichi miti è molto semplice ed efficace e li trova nell'albero cabaristico della vita un legame tra i sistemi pagani altamente stilistici e i suoi metodi più razionali. Il giudeo, asiatico di sangue e monoteista di religione ha un piede in entrambi i mondi. L'occultista moderno basa sia una metafisica che una magia sull'albero della vita con i suoi dieci santi sefirot. Egli si avvale di una concezione filosofica dell'albero per interpretare ciò che esso rappresenta nella sua mente conscia e si avvale di un'applicazione magica e rituale del simbolismo per collegarlo con la sua mente subconscia. Di conseguenza, l'iniziato prende il meglio da entrambi i mondi antico e moderno in quanto il mondo moderno è tutto consapevolezza superficiale e ha dimenticato con suo grave danno e represso il subconscio mentre il mondo antico era principalmente subconscio in quanto la consapevolezza si è evoluta soltanto recentemente. Allorché i due sono collegati e portati ad una funzione polarizzata essi danno alla super consapevolezza che è l'obiettivo dell'iniziato. Tenendo a mente i concetti precedenti cerchiamo ora di coordinare gli antichi pantheon con le sfere dell'albero della vita. Esistono dieci di tali sfere i dieci santi sefirot e tra questi dobbiamo distribuire in base al tipo i vari dei e dèe di qualsiasi pantheon desideriamo studiare. Ci troviamo allora nella posizione di poter interpretare il loro significato alla luce di quanto già sappiamo per quanto riguarda i principi rappresentati dall'albero e di aggiungere alla nostra conoscenza tutto quanto è disponibile circa il significato delle antiche divinità. Questo ovviamente ha un grande valore intellettuale ma esiste anche un altro valore che non appare così prontamente all'uomo medio che non ha avuto alcuna esperienza di lavoro nei misteri. L'attuazione di un rituale che rappresenta simbolicamente il funzionamento della forza personificata come un dio ha un effetto assai marcato e addirittura drastico sulla mente subconscia di qualsiasi persona che sia menomamente suscettibile alle influenze psichiche. Gli antichi hanno portato questi riti ad un altissimo grado di perfezione quando noi moderni cerchiamo di ricostruire l'arte perduta della magia pratica possiamo rivolgerci a loro con grande vantaggio. L'intera filosofia della magia è basata sull'albero e nessuno che non sia addestrato nei metodi cabalistici può sperare di comprenderla o di usarla con intelligenza. È questa mancanza di addestramento che rende l'occultismo popolare così atto a degenerare nella più rosa superstizione. il tuo numero nel tuo nome diviene una cosa diversa quando comprendiamo la cabala matematica. La lettura del destino nelle tazze da te è un'altra faccenda quando comprendiamo il significato delle immagini magiche e il metodo della loro formulazione ed interpretazione come un accorgimento psicologico per penetrare il velo dell'inconscio. In termini lati quindi smistiamo gli dèi e le dèe da tutti i pantheon pagani nelle dieci caselle dei dieci santi sefirot basandoci principalmente sulla guida delle loro associazioni astrologiche in quanto l'astrologia è l'unico linguaggio universale perché tutti i popoli vedono gli stessi pianeti. Lo spazio è riferito a Keter lo zodiaco a Kochma i sette pianeti ai sette successivi sefirot la terra a Malkuth ne consegue che qualsiasi dio che abbia un'analogia con Saturno sarà riferito a Binach così come lo sarà qualsiasi dea che possa essere chiamata la madre primordiale l'Eva superiore come distinta da Eva inferiore la sposa di micro prosopos Malkuth il triangolo superno di Keter Kochma e Binach si riferisce sempre agli antichi dei che ogni pantheon riconosce come i predecessori di quelle forme di divinità adorate dalla fede corrente in tal modo Rea e Krono saranno riferiti a Binach e Kochma e Giove a Chesed tutte le divinità cereali sono riferite a Malkuth e tutte le divinità lunari a Iesod gli dei della guerra e gli dei distruttori o diavoli divini sono riferiti a Geburach e la dea dell'amore a Netzach gli dei iniziatori della saggezza sono riferiti a Hod e gli dei sacrificatori e redentori a Tiferet un'autorità così grande come Richard Payne Knight nel suo prezioso libro The Symbolic Language of Ancient Heart and Mythology parla della notevole concorrenza di tutte le allegorie simboli ed appellativi dell'antica mitologia a favore del sistema mistico delle emanazioni con questo indizio noi classifichiamo i Pantheon mettendoci così nelle condizioni di confrontare simile con simile e fare in modo che uno illumini l'altro Crowley nel sistema che dà nel suo libro delle corrispondenze 777 assegna agli dei i sentieri così come quelli dei Sephiroth ciò secondo me è un errore e porta confusione sono i soli Sephiroth a rappresentare le forze naturali i sentieri sono stati di coscienza i Sephiroth sono obiettivi e i sentieri sono soggettivi questa è la ragione per cui nel glifo dal lavoro dell'albero usato dagli iniziati i Sephiroth sono sempre rappresentati in una scala di colori e i sentieri in un'altra quanti posseggono questo glifo sanno a che cosa mi riferisco gli stessi sentieri secondo me dovrebbero essere considerati soltanto sotto la prudenza diretta dei nomi santi che governano le loro attribuzioni sefirotiche e non dovrebbero essere confusi con altri Pantheon perché anche se possiamo rivolgerci ad altri sistemi per illuminazione intellettuale siamo poco saggi se cerchiamo di mescolare metodi di lavoro pratico e sviluppo della consapevolezza per esempio il diciassettesimo sentiero tra Tiferet e Binah è assegnato dal Sefer Yetzirah all'elemento dell'aria e dei nomi santi assegnati ad esso e se l'accostiamo mediante l'appropriata tatva piuttosto che se confondiamo il prodotto con le associazioni delle assortite collezioni di divinità Castori Polluce Giano Apollo Merti e le altre divinità incompatibili assegnate adesso da Crowley le corrispondenze presentano un groviglio inestricabile di associazioni i Sefirot dovrebbero essere interpretati macroscopicamente e i sentieri microscopicamente in tal modo troveremo il bandolo dell'albero sia nell'uomo che nella natura alle stazioni azora altruz altruz l'am l'am